Il Comune di Agropoli è aderito al progetto Spiagge Sicure dell'Asla Salerno. È partita infatti in questi giorni e durerà fino al 31 agosto, dalle ore 9 del mattino fino alle ore 18, un'importante misura per potenziare i servizi legati alla salute dei cittadini e dei villeggianti. È un progetto molto importante a cui è aderito il Comune di Agropoli. Il Comune di Agropoli consiste nel dotare di un gazebo sotto il quale ci sarà un infermiere fisso con un defibrillatore e sarà raccordato con i bagnini della spiaggia in modo che chiunque dovesse avere bisogno di un soccorso sanitario ha lì del personale adatto a poter immediatamente soccorrere ed eventualmente poi allertare il 118. Questa è una bellissima iniziativa, sappiamo quanto è importante avere sulle spiagge una dotazione di questo tipo perché tante vite salvate grazie al soccorso immediato, al defibrillatore anche e quindi il Comune di Agropoli avendo aderito a questo progetto Spiagge Sicure dà un servizio di maggiore sicurezza a chiunque si voglia rivolgere, turista o persona locale che si trovi a frequentare la spiaggia. In questo momento staziona sulla spiaggia del lungomare San Marco in collaborazione chiaramente con la cooperativa dei bagnini che sono parte piena di questo progetto. Fino a quando durerà questa iniziativa, dottoressa? Praticamente durerà 60 giorni, quindi tutto il tempo della durata dell'estate. Grazie. Grazie.